Non provo neanche a dirvi come sono felice, anzi come sono emozionata di presentare questo incontro con Luciano Ligabue, che conserva il mio cuore come tutti quelli che lo ascoltano cantare. Con lui conservo il nome dei grandissimi protagonisti che hanno agliettato il mondo con la loro musica rock, ma anche, forse soprattutto, con le loro parole più o meno ispirate dalla passione che conoscono solo i grandi artisti, straordinariamente capaci di non abbandonare più le loro immagini musicali. Ma lasciatemi dire che di questi grandi protagonisti a me lui sembra il più grande e quando con la bocca spalancata ci racconta le sue storie, quelle storie non le dimentichiamo più. Va bene, eccoci, dai. Senti, ma adesso, a parte questo che stai facendo con me, che spero che non ti ruberà tanto tempo, perché sono soprattutto parole che ti sto chiedendo e che ti abbiamo chiesto, ma che cosa hai in mente tu, in questa tua mente vulcanica che hai, che cosa vorresti fare tu? No, adesso non c'è nessun progetto, cioè nel senso che io, sai che cosa ho fatto sempre alla fine? È stato, so che non sembra plausibile, ma è stato navigare a vista. Cioè nel senso che io non avrei mai pensato nella mia vita di scrivere una raccolta di racconti, men che meno di scrivere una sceneggiatura e poi dirigere un film, men che meno di scrivere un romanzo, che per me comunque risuonava sempre come una struttura troppo complessa, insomma, per come io ho sempre scritto. Tutte queste cose non sono venute fuori da una progettazione, perché non è che uno si mette e dice se io fra due anni farò uscire questa cosa, perché non le puoi prevedere. Quindi in questo momento non solo non c'è nessun progetto, ma c'è la voglia sempre di più di andare contro a quello che mi viene incontro. Questo è il tuo problema. Quando io sento che ho l'urgenza di raccontare una cosa e questa cosa non sta nelle canzoni, perché purtroppo nelle canzoni a volte non ci stanno tutte le parole che hai bisogno di dire, allora dopo pian pianino quella roba prende la forma più giusta, più adeguata. Di un racconto, di una storia. Esatto. E quindi, però questa roba non si sa quando viene fuori, cioè io non l'ho mai saputa quando viene fuori. Ma tu con Procacci che rapporti hai adesso? Rapporti ottimi, hai venuto a trovarmi… Rapporti ti adoravano, sai cosa… No, no, ma credo che possiamo dire di essere ancora molto amici. È venuto il primo maggio a trovarmi a Roma, ogni tanto scherziamo sul fammiserato prossimo terzo film che pure verrà se verrà fuori una storia. Io non ho voglia di andarla a cercare la storia, capito? Però viene. Se viene, allora ci sarà un terzo film. E questa è coerente con le cose che scrivi, perché anche le canzoni le fai così. Non è che lo sai prima, a un certo punto ti viene. Io scrivo molto, rispetto alle canzoni, ecco lì scrivo molto, nel senso che scrivo tante canzoni e tante non le pubblico. Cosa fai di quelle che non pubblichi? Non si sa, sono lì. Non si sa. Con me non esiste, non si sa. No, si sa, nel senso che comunque al momento, sono lì, sono canzoni che non sono state pubblicate perché altre erano più giuste per costruire un album, per costruire qualcosa da dire. Magari perché in quel momento erano più giuste. Sì, cioè quelle che pubblico, ovviamente, perché erano più giuste nel raccontare una cosa. Cioè io, soprattutto nei primi 5-6 album, avevo una sorta di idea concept, li chiamano i concept album. Cioè un'idea di base per raccontare delle cose attraverso gli album. Cioè quindi le raccolte delle canzoni. E mentre il primo era una sorta di presentazione, cioè raccontavo il mio mondo più o meno, il mio punto di vista, il secondo era il viaggio fra la realtà e il sogno. Il terzo parlava di resistenza umana. Infatti si chiamava sopravvissuti e sopravviventi con tutto il discorso annesso e connesso. Il quarto era una raccolta di canzoni, ecco, vedi ad esempio che non erano finite in altri album precedenti che aveva bisogno di venire a galla. Il quinto era un album che raccontava il rock. Cioè l'epica del rock, l'idea, l'iconografia del rock. Era un album in cui si raccontava soprattutto di una cosa che secondo me è molto chiara ed è sotto gli occhi di tutti, ma che comunque ci continua in qualche modo a fregare. Cioè la persona che in quel momento aveva più successo al mondo era Elvis Presley. E questa persona che aveva tutto e aveva tutto a disposizione, di quel tutto è morto. Perché in qualche modo si è fatto dentro di lui largo probabilmente un buco che non riusciva a riempire con nessuna sostanza, con nessun alimento. Lui è morto per un eccesso di assunzione di sostanze, alimenti, eccetera. Poi è morto anche in un modo assurdo per il re del rock. Lui è morto sulla tazza del cesso. Gli è venuto un infarto mentre stava sul water. Quindi pensa all'ironia della sorte anche. Però questo dovrebbe far riflettere un po' tante persone rispetto alla logica del successo. Tutti nasciamo e cresciamo pensando che l'idea di felicità in qualche modo sia raggiungibile attraverso il tuo raggiungimento di un successo personale. Perché questo è il messaggio che ci arriva da tutte le parti. Però questa è una puttanata. Nel senso che non è niente vero. Cioè la tua felicità, tu risolvi dei problemi con il successo. Io ho provato a raccontarlo più di una volta. Sicuramente è successo, specialmente se fai musica popolare, è necessario, è importante per farti sentire bene, per sapere che tu stai facendo anche la cosa giusta. Però non è vero che ti rende felice. Cioè ti risolve molti problemi, ti fa vivere... Soprattutto perché tu non fai solo musica popolare. La tua musica popolare rappresenta qualcosa di molto preciso nel momento che la fai. Non fai una commedia con me. Tu sai benissimo che cosa rappresenta. Però sappi che io ci credo molto. Ritorniamo sul nostro parcoscenico. Allora guarda Nanda, sappi che io credo moltissimo in questa roba qua. Io credo molto nel fatto che le canzoni sono nate come riduzione del melodramma. Il melodramma era per la gente. Senza dubbio. Sono assolutamente d'accordo. Viva, viva, viva. Le canzoni sono per la gente. E io voglio rispettare quella cosa lì. Nel senso che comunque non mi piace neanche tanto l'idea che una canzone debba essere scritta soltanto per una cerchia di eletti. Perché lì si fa qualcosa di non giusto rispetto alla natura della canzone stessa. Di non giusto nella canzone però di molto coerente con quello che tu hai dentro quando scrivi la canzone. Certo, ognuno ovviamente poi ha bisogni diversi, ha bisogni espressivi diversi anche, ovviamente. No Nanda, non lo so. Io sai, quando si parla di simboli, credo che sia difficile un po' per tutti capirne la portata e capire anche come mai vengono a galla, come mai qualcuno eventualmente può arrivare a simboleggiare qualcos'altro. Però io mi sono sempre di più fatto chiaro nella testa un discorso che sento molto mio e che mi piace pensare che sia così. Ed è che noi in generale, come genere umano, siamo capaci di estremi molto importanti, cioè di una grande meraviglia e del contrario secco. Perché abbiamo la capacità di essere ognuno di noi unico, unico nel proprio punto di vista. E' vero, cioè... Il mondo con occhi diversi giorno per giorno. E' indispensabile. Ecco, questa cosa qua a me fa pensare ad un'altra cosa, ed è che ognuno di noi ha già dentro tutto. Ognuno di noi dentro di sé ha dentro tutto. E quando si fa arte, oppure si fanno canzoni o roba di questo tipo, succede semplicemente che uno regge lo specchio a qualcun altro. Io quando funziono bene reggo lo specchio a qualcun altro, che passando di lì può guardarsi un attimo e poi dire vado avanti perché non è il momento di specchiarmi, oppure può fermarsi e dire ecco, adesso lascio venire a galla quello che ho già dentro. E in questo momento che cosa lasci venire a galla? Ah, io ovviamente non posso far altro che raccontare quello che a me viene da raccontare. Poi ognuno dovrà lasciare venire a galla quello che crede. Perché le canzoni sono fortunatamente di interpretazione soggettiva. Cioè io tante volte ho sentito delle interpretazioni delle mie canzoni che io non avrei mai dato. Cioè io a volte ho sentito le mie canzoni venire vissute in una maniera che era molto lontana come dal motivo per cui le avevo scritte. Però andava bene anche così. Perché lo specchio aveva funzionato. Aveva permesso a qualcuno di far venire a galla delle cose. E di capire delle cose che non aveva capito. Sì, sì, perché se fa venire a galla... Questo è il tuo desiderio. Ma il mio... Guarda, poi io penso che ovviamente una delle basi della mia scrittura sia quella di infondere speranza. Quella di in qualche modo riuscire a trasmettere un sentimento di resistenza, di capacità di affrontare la parte più dura anche. E tutto questo io continuo a metterlo lì. Anche se non è sempre facile, perché poi tante volte il mondo per come lo vedi ti sembra un posto tremendo. Cattivello. Però l'importante, secondo me, è riuscire ad avere le risorse con cui anche affrontarlo, con cui anche guardarlo. E da questo punto di vista c'è una cosa... In una canzone che si chiama Da adesso in poi, c'è una frase che è l'unica che io mi sono ripromesso di usare come vero insegnamento a mio figlio. E questa frase è Vale la pena vivere. E secondo me questa è un po' la frase che ritorna in molte delle mie canzoni. Una volta politica voleva dire ideologia, voleva dire passione, sogni. Poi il corso della storia è cambiato. Da allora come è cambiato il tuo modo di approcciarti alla vita e alla tua musica? Ci sono molte fasi nella vita da elaborare ovviamente, compresa anche quella di prendere atto che alcune grandi idee, alcune grandi passioni non combaciano, alcuni grandi sogni che hai avuto possono anche non realizzarsi. E' ovvio che questo rientra nell'esistenza di ogni persona. E bisogna fare conti con quello che c'è dopo, quando vedi che questa cosa non si può realizzare. Ma anche con i conti di quello che c'è fuori, delle persone che ti ascoltano, che è ancora più difficile. Perché parlare di quello che hai dentro non lo sai fare solo tu, nessun altro. Non c'è dei nostri critici. Ma parlare di quello che c'è fuori è più complicato di decidere quali delle cose che ci sono fuori. Ah no, ma è molto difficile ovviamente raccontare le cose che ci sono fuori, anche perché come sempre tutto questo passerà sempre attraverso un filtro tuo. Cioè, se io racconto quello che vedo fuori, lo racconterò attraverso i miei occhi per forza di cose. Non c'è dubbio. E saranno sempre degli occhi che hanno fatto un sogno che non si può più fare. Sì, quello sicuramente. Quel sogno lì ti resterà sempre sulla pelle, sai, non per arci che ti finissi. No, io ovviamente credo che il sogno di pensare che la politica potesse in qualche modo rendere questo mondo più equo, cioè che si preoccupasse di distribuire le risorse in un'altra maniera. Perché così si presentava, non era colpa tua. Adesso è una chance di vita decente ad ogni persona. Eh, certo. Beh, è ovvio che il cuore è stato un sogno molto grosso. È difficile adesso credere che la politica si concentri su queste cose. Adesso la politica si concentra su... Il conto in banca. Esatto, su un discorso economico. Però è chiaro che ci sono molte forme di speranza e di passione e di ideologia, no? E io spero di poter dire che questa cosa qua, anche se non è assolutamente realizzabile in brevi termini, ma che forse un giorno in qualche modo possa essere non raggiunta totalmente, ma almeno in parte. Io invece ti faccio una predizione, senza aspettare che passi tanto tempo, che oggi quando si ascolta una tua canzone, ci si ascolta il tuo messaggio, che è il messaggio del futuro. Tu dai sempre il messaggio del futuro. Beh, io ti ringrazio. Grazie. Ed è un messaggio sempre consolante, sempre confortante. Quella è un'intenzione che mantengo, ripeto. Quella è un'intenzione che per me è importante. E faresti male a non mantenerla, perché i ragazzi sono pazzi di te per questo. Per che cosa credi che siano pazzi di te? Per le tue armonie, per le tue che cosa. Perché tu gli incoraggi a vivere, perché sei un esempio che col cuore e con l'anima, con la tua vita di artista, con lo tuo essere un artista, tu puoi guidare il mondo. Se poi non te lo lascio. Guidare il mondo. Guidare il mondo. Il mondo degli artisti. No, no, io non faccio dei discorsi. No, no, certo mi dai una bella responsabilità, mi dai un bel volante in mano. Ti do una bella responsabilità, è peggio per te se non la segui però questa responsabilità. Perché guarda che non l'ho inventata io la responsabilità. Hai mai provato tu? Non puoi perché tu sei lassù e loro sono laggiù. Hai mai provato a guardare negli occhi? Sempre. Nanda, sempre. Credimi. È l'unico modo, è l'unico modo, è vero che è l'unico modo. Tu domani sera verrai a vedere il concerto. E vedrai i miei occhi. E sappi che, è ovvio, io guardo negli occhi di quelli in cui posso guardare perché purtroppo ad alcuni non arrivo. Però è necessario perché proprio è lì che si viene a svolgere la magia di un concerto rock. È dentro quell'energia lì, è dentro l'energia di uno scambio umano che succede questa cosa. Tu ti senti italiano? E cosa ti piace dell'Italia? Mi sento italianissimo. Credo che lo si senta anche nel senso che il rock è un genere che nasce da un'altra parte. Però mi interessa moltissimo metterci dentro tutti gli elementi di melodia che posso. Mi piace molto che sia in qualche modo distante dal rock inglese o americano e che invece sappia molto di italianità. E che cosa mi piace dell'Italia? Tante cose mi piacciono dell'Italia come pure tante cose pure non mi piacciono. Non ti piacciono. Mediamente mi piace una predisposizione all'improvvisazione. Mi piace abbastanza il fatto che non ci sia un modello di regole così assolute. Mi piace anche l'anarchia. Io penso che uno delle… Io sono un anarchico. Eh ma lo immaginavo. Però voglio dire, non lo so, penso che i napoletani abbiano capito molto della vita nel vivere un loro modo di essere anarchici nella loro giornata. E i tuoi modelli musicali nel passato? Oh, qua ce n'è un bel po', eh? La musica popolare. Rispondimi la musica popolare. Io credo che semplicemente che il più… Allora, per far presto perché poi non la volete a troppo lungo. Il più grande autore di testi, quello che ha cambiato veramente le cose, è stato Bob Dylan. Il suono più grande… Anche Presley però.